Ciao, sono Ruggero Pazzaglia, il fondatore di The Drum Booster, strumenti per il batterista intelligente. Oggi mi stavo scaldando per registrare una nuova lezione del corso piedi e ho pensato di usare il warm-up tempo progressivo, quello che abbiamo usato per la sfida estiva. Ti ricordi che nei video precedenti avevo messo anche uno stinatino ai piedi, giusto per far andare tutti e quattro gli arti assieme. Oggi ho voluto fare un mix, forse dovuto a un colpo di sole, al troppo caldo. Ho pensato di mettere l'ostinato binario sotto al warm-up ternario. Ascolta l'effetto che viene fuori a 108 BPM. Andiamo. Quindi faccio partire i piedi. Ma le mani invece che fare i sedicesimi faranno le terzine. One, two, and a three, and a four, and a one, and a two, and a three. Seconda. Terza. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Per sapere come va? Ci vediamo nel prossimo video. Ciao da Ruggero!